Siete i miei roba? Sì, tanto so. Siete qui? Siete qui? Siete qui? Ti metto proprio. Come si vede, eh? Ma non passa bene. Sì, sì. E non è mai? No, è aperto. No, non metto qua. No, qua. E' altro di te? Sì, sì, poi la voglia. Poi la può anche spostare. Guarda, però... In questi teatro... Qua c'è la quello con... Ah, sì, sì, io voglia. Sì, sì, ma sennò la sposti più qui. No, va bene. No, devi uscire da lì, che qui... Proprio per evitare che la gente poi scappi... Occhio, perché ti stai benissimo che i guru vedono tutto. Questa è un assorbitore di Kundalini. Dico che siamo in... In termini di... Oramai siamo in... Abbiamo rispolverato... Comunque sia l'arianismo. E quindi questa... Questa sorta di visione del mondo e delle cose E questa è un assorbitore di energia. Positiva. Quindi non solo quella negativa. Tu regolati di conseguenza. Certo Dio. Anche perché se no è troppa sedia delle cose. Ah, no, c'è la telecamera. Cos'è? Eh, c'è la telecamera. Ah, no, no. No, no. Crescente di passività. Senti, ma almeno questa attacso. Senti, ma a meno questa attacca... Eh... Eh. No, no, no. No. Sì, ci sono sempre di roba il campo di stasca, c'è un po' di roba. Grazie. C'è un po' di roba, c'è un po' di roba. C'è un po' di roba. C'è un po' di roba, c'è un po' di roba. 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 C'è un po' di roba.